Torna la tradizione degli antichi mestieri a San Pietrovara. Ieri si è tenuto il tradizionale appuntamento che ha registrato un boom di presenze. La fiera è stata organizzata dal comune di Varese Ligure in collaborazione con Confartigianato e ha richiamato persone dalla Val di Vara, dalla Spezia, dal Tiguglio e dalle Cinque Terre. All'inaugurazione il sindaco di Varese Ligure Giancarlo Lucchetti con il vice Carlo Figone e l'assessore Luigina Codemarchi per la regione Liguria, il presidente della Commissione Ambiente Giancarlo De Paoli e per la Confartigianato il direttore Giuseppe Menchelli. La Val di Vara è un territorio da riscoprire e valorizzare. Questa fiera è una duplice opportunità per gli operatori della valle e per i tanti turisti che hanno potuto trascorrere una giornata diversa degustando i prodotti del territorio, spiegano il sindaco Lucchetti e il direttore di Confartigianato Menchelli. Questa manifestazione per San Pietro rappresenta un momento per essere conosciuto, poi per essere apprezzata, apprezzata in tutta la sua violenza e anche nei prodotti che si possono mangiare e che si possono gustare in questa zona. Siamo orgogliosi di essere qui coinvolti insieme col comune di Varese Ligure nell'organizzazione di questa manifestazione e credo che questa manifestazione rappresenti bene e testimoni la vivacità di questa comunità e anche la voglia delle imprese di crescere e crescere in quel solco che da sempre noi perseguiamo insieme all'amministrazione comunale e ad altri attori che ringraziamo, che è quello della valorizzazione dei prodotti locali, dell'enogastronomia, la valorizzazione degli antichi mestieri, delle tradizioni, la valorizzazione anche del biologico perché poi tutto questo insieme fanno quel turismo sostenibile che noi perseguiamo. Il consigliere De Paoli ha sottolineato l'impegno della Regione per la promozione e la tutela del territorio. Confartigianato ora ha come obiettivo quello di realizzare una rete fra tutte le imprese presenti sul territorio per integrare e valorizzare le tante eccellenze imprenditoriali e dare continuità all'azione di promozione e crescita della valle nell'ottica di uno sviluppo consapevole e sostenibile.